Lei cosa ne pensa del ritorno reintegro dei medici Novax? Assolutamente no, non mi farei mai curare da un medico che non accetta giustamente la scienza. Io vado con quello, poi, ripeto, non... È una decisione sbagliata secondo lei? È una decisione sbagliatissima, io li radierei proprio dall'albo dei medici. Credo che l'esercizio della professione sia essenziale, ma per esercitarla bisogna avere tutti gli elementi a posto. Quindi è sbagliato secondo lei far tornare questi medici, così come l'emergenza... È sbagliato nella misura in cui il medico rifiuta il concetto che lui stesso propone agli altri. Cioè mi sembra un controsenso, tutto qua. Siccome è stata una legge obbligatoria, il rientro mi sembra un pochettino inutile come cosa. Quindi dovrebbero stare esclusi finché non appuntano il vaccino. Sono favorevole. Perché? Perché è giusto così e anzi non devono essere messi fuori. Sono d'accordo. Perché? 100% perché non è stato giusto. Che fossero sospesi? Sì. Perché? Perché non la meritavano. C'è un diritto di lavorare, no? Ed eccoci tornati qua in studio. Come sentite, sono diverse le opinioni. C'è chi pensa una cosa, chi ne pensa un'altra. Il dibattito è aperto. Parliamone, dicevo, con il senatore Giovanni Satta e con il professor Dario Manfellotto. Buonasera a tutti e due. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, cominciamo con il senatore Satta, senatore di Fratelli d'Italia, già dirigente però medico ospedaliero, quindi uomo del settore. Esatto. E quindi non è che sta lì sproveduto, no? Perché delle volte dice chi è che parla? Stefano Bandecchi che faceva il muratore fino a ieri. No. Che sarei io Stefano Bandecchi. Sì, eccomi, eccomi. Medico da oltre 30 anni, 30 anni d'ospedale e poi questa esperienza in Senato che è appena iniziata, però insomma ecco, sono ancora medico a tutti gli effetti. E speriamo che duri almeno 5 anni questa esperienza. Detto questo. Ce lo auguriamo, vediamo, facendo anche qualcosa di buono possibilmente. Cioè, certo, se no non dura 5 anni. Dicendo questo, che cosa ne pensa lei? No, non dura da sua parte. Che cosa ne pensa lei di questo riintegro anticipato? Perché, chiariamo subito... Si è detto... Eh, prego. Sì. Si è detto moltissimo. Si è aperta una grande polemica riguardo a questo argomento. Poi, se si va a vedere nel dettaglio questi provvedimenti che sono stati presi dal governo, sono dei provvedimenti che poi, diciamo nel dettaglio, non sono così influenti rispetto a quello che è la, diciamo, la situazione attuale. In realtà, i numeri dei medici e del personale sanitario che verranno riintegrati sembrano essere minimi. Mille e trecento medici, però alcuni sono, diciamo, in età pensionabile. La maggior parte sono donpediatri, alcuni sono medici, diciamo, che stanno andando via, praticamente. Quindi, in corsia, si pensa di far rientrare circa mille medici, quindi in tutto il territorio nazionale. Quindi, sono una percentuale estremamente bassa, direi, rilevante. Certo, il messaggio non deve essere quello dei liberi tutti. E tutti questi, diciamo, colleghi che vanno a rientrare nella loro attività professionale, naturalmente c'è l'obbligo da parte delle direzioni sanitarie di individuare, diciamo, delle posizioni che siano lontane dai pazienti tragici. E quindi, alla fine, non sarà una grandissima differenza. Questo va sottolineato anche il fatto che questo decreto anticipa di due mesi quello che era il fisiologico termine del decreto che portava al 31 dicembre il rientro del personale sanitario. Quindi, alla fine c'è un anticipo di quattro settimane su un numero, direi, irrisorio. Senatore, so che le faccio una domanda difficile. Ma lei le avrebbe fatti rientrare o no? Sinceramente io le dico quello che penso. Io, diciamo, di mia esperienza personale. Io il virus l'ho conosciuto da vicino, mi sono ammalato nel marzo del 2020, quindi so benissimo quello che si rischia. Mi sono ammalato in corsia, oltretutto. Per cui so benissimo di che cosa parliamo. Sinceramente no, però è un messaggio anche di, come dire, di riappacificazione. No, ma mi fa piacere sentirlo dire da lei, perché vuol dire che anche all'interno di Fratelli d'Italia non tutti hanno la stessa idea. Quindi io le faccio i complimenti anche per la sua chiarezza in quello che ha detto. Passiamo al professor... Prego, prego. No, no, è un messaggio che comunque ha un significato anche di riappacificazione, perché, ripeto, è un qualche cosa che andava ad esorirsi da qua a quattro settimane. Sono d'accordo sul fatto che... Sono d'accordo sul fatto che alla fine le guerre finiscono, però le devo anche aggiungere allora che a me personalmente da cittadino non piace nemmeno l'idea della commissione su come è stato gestito il Covid. Perché, vede, come lei giustamente ha risottolineato, lei in corsia ha preso il Covid, diciamo il primo Covid, nel 2020. 2020. Ciò vuol dire prima di iniziare il lockdown. Quando tutti eravamo talmente spaventati che non sapevamo come gestire le cose. Tant'è vero che ci siamo tutti chiusi in casa e non ne abbiamo fatto una grande tragedia, perché eravamo più spaventati di morire piuttosto che di... Poi piano piano, col tempo, a tutto ci si fa l'abitudine. Oggi è facile dire tutto è stato gestito male. Certo, le dico con franchezza, io ho pagato delle mascherine 20 euro e poi oggi so che una mascherina... Con questo argomento la commissione ha un senso, ecco. Bravo. Non è che deve criminalizzare, però bisogna analizzare che... Senatore, bisogna anche ricordarci che questa nazione, purtroppo, non aveva previsto. Quindi io andrei a fare un'analisi molto profonda negli ultimi 30 anni di governo. Ma dobbiamo capire anche bene che cosa è successo per pensare... Eh, ma dobbiamo anche capire perché negli ultimi 30 anni nessuno aveva messo delle mascherine perché in Italia non producevamo più nulla. Insomma, la storia è un po' più lunga degli ultimi due anni. Anche su questo bisogna indagare, certo. Io spero che qualcuno vada oltre gli ultimi due anni. Non una vendetta, ma una vera chiarezza. Non deve essere una vendetta, non è pensata come una vendetta, assolutamente. Il piano antipandemico, dobbiamo ricordarci, che era un coppia e un colla che andava avanti da 30 anni, insomma. Quindi bisogna ricordarci tutto. E io sono un elettore di centrodestra, quindi voglio chiarire il punto, non devo dipendere nessuno. Però bisogna ricordarci come girava il mondo. Professor Manferlotto, la sua idea, il suo cognome è difficile. La prossima volta... Sorrido, sorrido perché il cognome è effettivamente complicato. Bravo, io sono stato bravo. Io qualche volta dico, guardi, come Lancillotto così tanto. Ma lei lo sa che io avevo un nonno che si chiamava Lancillotto, perché essendo toscano io, solo in Toscana c'erano il cognome Lancillotto. Oggi sono rimasti in 60 e quando io sono nato erano 600, solo in Toscana. Lancillotto o qualcuno, Lanciotto, che sono lo stesso, diciamo, nome, lo stesso significato. Va bene, mi scusi questa parentesi. No, per carità, per me è abituale questa difficoltà sul cognome. Il suo parere è sul discorso medici, no vax, che sono rientrati anticipatamente, perché poi dovevano rientrare al 31 dicembre, quindi non la facciamo lunga. Però la sua idea? Intanto saluto il senatore Satta, un collega e le altre persone. Mi pare di vedere il direttore e un'altra persona che... Buonasera. È il rettore dell'università Niccolò Cusano, lo teniamo qui. Ah, ecco, non lo vedeva, adesso lo vedo inquadrato. Buonasera, scusatemi, ma non vedevo bene qui nello schermo. Prego, prego. Allora, intanto poi chiarisco un altro dubbio sul nome Fadoi, questa sigla, questa società scientifica della quale io sono presidente, che è la società scientifica dei medici internisti ospedalieri, una società di medicina interna che ha oltre 3 mila iscritti e gli internisti in Italia sono presenti in tutti gli ospedali italiani e quindi sono un po' la sentinella, i carabinieri dell'ospedale e abbiamo seguito circa il 70% dei pazienti Covid ricoverati nei nostri ospedali. Quindi abbiamo vissuto, così come raccontava personalmente il senatore Satta, la situazione e continuiamo a vivere le difficoltà adesso. Io ho molto apprezzato quello che ha detto Satta, perché dire così in assoluta sincerità che lui non l'avrebbe fatto, lo trovo un atto di coraggio e di intelligenza, non politica, ma umana e scientifica. Io credo che sia stato… È arrivato un messaggio sbagliato, cioè questa sorta di condono, come ha detto qualcuno, di sanatoria nei confronti dei medici, che poi a 31 dicembre sarebbero comunque rientrati, è in qualche modo il messaggio paradossale che se non è necessario, non è obbligatorio il vaccino perfino per gli operatori sanitari, allora vaccinarsi non serve a nulla. Il messaggio rischia di passare così e rischia di sembrare il contrario di quello che il Presidente Meloni diceva di non fare questioni ideologiche, rischia invece di passare per una posizione ideologica, cioè effettivamente vogliamo chiudere col passato, con questa questione e quindi facciamo ritornare tutti quanti prima ancora del previsto al lavoro. Poi ha detto molto bene anche il senatore, sono un numero irrisorio, circa 1.000-1.200 medici, considerato poi gli odontoiatri, i medici pensionanti, i privati eccetera. E questo contrasta con quanto il, dico ancora il Rettore Schillaci, il Ministro Schillaci aveva dichiarato, cioè che veniva fatta questa misura, veniva decisa per dare un pochino di personale in più al personale sanitario. Ora ovviamente mille persone con queste caratteristiche… Delle volte quando si mette la pezza si faceva bene a tornare il buco. Esattamente, a Milano dicono è peggio il tacchion del buso, è una cosa che effettivamente secondo me non andava detta perché fatti i numeri, noi abbiamo, il senatore lo sa benissimo, una previsione di una carenza di circa 40.000 operatori, fra medici e infermieri per l'attuazione dell'assistenza territoriale di M77 eccetera e quindi mille medici che poi dovranno essere messi in servizi, direzione sanitaria, non a contatto con i pazienti più fragili, quindi diciamo poco utili per i nostri turni di servizio, per le guardie, per la triplicazione dei turni che abbiamo fatto, quindi è qualcosa che effettivamente è un messaggio che secondo me è sbagliato e poi è un messaggio deontologico, il medico deve attenersi alle regole deontologiche scientifiche, prego mi scusi. Ma io sono d'accordo perché io personalmente per esempio un medico no vax non lo vorrei, perché per me qualcuno si salva dietro al fatto di dire ma sai il vaccino era ancora sperimentale quindi io non ho voluto rischiare per me i miei pazienti, allora io qua mi viene automatico dire che se non ci fossimo fatti il vaccino il 98% degli italiani, quanti ce lo siamo fatti, forse non avremmo oggi la libertà che abbiamo e non avremmo risolto così in fretta il problema Covid, la stessa cosa va a livello mondiale, tanto è vero arriva la domanda, per voi è normale che in questo momento si dica che la quarta dose è volontaria, perché dico ci sono tanti fragili in giro, non sappiamo ancora se questa bestia ha veramente deciso di lasciarci, cioè è normale che andiamo a vanificare mettendo volontaria la quarta dose che potrebbe capitare di tutto, potrebbe sparire, è auspicabile, io lo spero, ma potrebbe anche tornare qualcosa indietro, cioè questa quarta dose perché è volontaria, parto da satta, satta perché la quarta dose è volontaria? Beh, volontaria è fortemente raccomandata, è un po' diverso, volontaria lascia... Satta non faccia il medico, deve fare il politico perché il sottosegretario del suo partito ha detto è raccomandata, ah sì scusi ha detto è volontaria, è volontaria non raccomandata. Volontaria è fortemente raccomandata, adesso non ci invertiamo in queste diciamo disquisizioni terminologiche, in realtà sì è fortemente raccomandata, è fortemente raccomandata nelle persone che hanno una fragilità, che hanno un'età superiore a 60 anni e quindi devono farla, quindi il messaggio che deve arrivare, e qui è una forma diciamo di informazione che deve essere... Satta ma io vivo in casa con i miei figli, no? Che hanno 30 anni, 32 anni e 22 anni, io siccome vivo in casa con i miei figli è bene che si vaccinino anche loro, perché io ho 62 anni, sono un fragile, se mi entrano in casa che hanno il Covid sono spacciato. Sì certo, ma non sarebbe male, però se lei già è vaccinato sicuramente è il protetto rispetto a delle forme gravi di malattia, quindi diciamo se lo si fa per tutelare i fragili, il momento in cui lei si considera fragile, si vaccina per la quarta dose, si dà un'ulteriore protezione a quello che può essere il rischio per lei stesso di ammalarsi, se dobbiamo fare una campagna vaccinale che coinvolga tutti da 12 anni in su, come i preti bambini, rischiamo di perderci in qualche cosa che non è in qualche modo l'attualità dell'attuale fase pandemica, su questo ragionamento io spingerai più su una forma di educazione, diciamo di informazione corretta, di attenzione a responsabilizzare la gente piuttosto che su obblighi, sempre obblighi e solo obblighi, gli obblighi ne abbiamo visti tanti e i risultati non sono stati così esaltanti sotto il profilo dell'obblighi. Beh anche quelli che non hanno avuto l'obblighi però, le assicuro che non li hanno avuti esaltanti. La maggior parte della gente si è vaccinata, si è fatta tre dosi, l'ha detto lei prima, il 94% delle cittadini sono vaccinati, l'hanno fatto perché è consapevole del fatto che il vaccino garantisse a loro una protezione. Questo è il ragionamento che dobbiamo fare, quindi il discorso volontario-obbligatorio, secondo me si deve spingere molto sull'informazione, sulle forme di educazione. Satta, lei ha fatto il militare da ragazzo, no? Satta, è un ufficiale medico. Bravissimo, ma lei sa dirmi che cos'erano le due punture che si è fatte nel petto? Guardi, ne ho passate giornate interi a vaccinare il... E allora nessuno di noi sapeva che cos'era, tutti zitti, muti e rassegnati, la puntura nel petto e via. Sì, quando abbiamo fatto, sì, capito, però stiamo parlando di un qualche cosa che è già stata fatta per tre volte, adesso pensate di fare la quarta e forse anche la quinta, perché già ti parla della quinta, anche della sesta, se non altro lo devi spiegare, lo devi spiegare bene, la gente deve capire che cos'è, perché non stiamo parlando di un qualche cosa che fa per la prima volta, su un vaccino che comunque è un vaccino che ha delle caratteristiche di novità. C'è una cosa molto bella, però, professore, senatore, scusi, ieri sera sentivo in un'altra trasmissione televisiva una cosa fantastica, che proprio grazie al vaccino che abbiamo fatto, entro gennaio avremo finito una sperimentazione, perché lo stesso portatore del vaccino nell'RNA diventa portatore nell'RNA di un antitumorale, praticamente per la prima volta sta nascendo un vaccino e una cura con questo portatore e a gennaio la sperimentazione è finita. Perché il vaccino RNA sul Covid è stato possibile perché c'era una sperimentazione precedente in ambito oncologico e allora sono riusciti a farlo anche sul Covid. Sicuramente, ha delle prospettive importanti questa tecnologia, però ecco, in questo momento rimediamoci a parlare di Covid su cose che sappiamo, che cominciamo a imparare in questi ultimi mesi, per cui pensare che questa sia la panacea di tutti i mali, insomma, fa un messaggio che forse non sarà così corretto. Io sull'obbligo vaccinale ho qualche perplessità, perché l'obbligo andava sicuramente perseguito per le categorie a rischio, cioè i medici, gli operatori sanitari, le persone molto, molto fragili, le persone istituzionalizzate, allora lì è l'obbligo vaccinale. Estendere l'obbligo vaccinale a tutta la popolazione ho qualche dubbio che sarebbe stato non solo possibile, ma anche praticabile facilmente. Per cui anche la scelta che è stata fatta, sia dal punto di vista scientifico, sia dal punto di vista politico, è quello di fare una forte campagna di educazione, di convincimento delle persone per andare. Ed ha funzionato, perché ricordava Satta, il 94% delle persone da vaccinare sono state vaccinate con tre dosi e quindi c'è stato sicuramente un effetto molto, molto forte. Purtroppo abbiamo scontato questo grosso limite comunicativo che c'è stato, perché la polemica infinita che c'è stata nei media, c'è stata a tutti i livelli sull'efficacia e la non efficacia, i rischi, i problemi, la paura, eccetera. Purtroppo mi permetto di ripetere, anche suffragata da questa sorta di condono nei confronti dei medici Novax, che rischia di mandare anche questo un messaggio negativo, lo ripeto senza polemica, ma soltanto come un analista tecnico. Io non sono un sindacalista, sono un medico e la mia è una società scientifica, quindi parlo dal punto di vista scientifico e dal punto di vista tecnico. Quindi ci sono stati degli errori comunicativi. Senza fare nomi qualcuno che si chiama Bassetti ha detto li manderei a rifare il corso di malattie infettive. Esatto, esatto. Perché c'è una mancanza, insomma. Sì, sì, questo è sicuramente una mancanza e quindi è stato, secondo me, un vulnus. E' un errore questo proprio comunicativo e anche di programmazione, purtroppo, da parte del Ministero. Forse poteva essere evitato, andando verso questa sanatoria, diciamo, questa riappacificazione, non sanatoria, riappacificazione che auspicava prima lei e anche il senatore Satta, e quindi di andare piano piano a smussare un pochino i toni della polemica e andare a trovare una soluzione migliore, diciamo, anche da questo punto di vista. Anche perché, mi perdoni, un secondo solo, qui rischiamo dei contenziosi enormi, da chi ha pagato la multa, da chi è stato sospeso senza stipendio, da chi si è vaccinato perché non voleva vaccinarsi, ma si è vaccinato per non perdere il lavoro. Lei ha toccato un tasto fantastico. E questo è un problema che si creerà, è un problema che a me non riguarda, è un problema che riguarda lo Stato. No, posso dire una cosa, a me riguarda, perché se evidentemente lo Stato mi dice che non vaccinarsi era uguale, allora io voglio essere rimborsato per il rischio che avrò nei prossimi anni, dato che ho fatto un esperimento, e quindi voglio essere pagato in base al mio reddito, oltretutto, e quindi al fatto che io potrei venire a mancare prima del tempo, e quindi lo Stato si trova una serie di cause che non finiscono più. Se parte una spirale perversa, è una spirale bruttissima, perché poi alla fine ognuno ha da rivendicare qualcosa. Il rischio c'è, io già ne sento parlare. Lo so, lo so, ne sento parlare anch'io da degli studi legali che nascano appositamente, associazioni di consumatori che si stanno organizzando verso questa direzione, perché c'è chi dice io sono stato lasciato senza stipendio, quindi adesso mi pagate, e mi pagate anche i danni morali e tutto quello che c'è. C'è chi dice, allora io invece mi sono fatto il vaccino, sono più cretino di lui, allora anch'io voglio essere pagato in altro modo. È una storia difficile. E purtroppo questa decisione, questo decreto rischia di alimentarla. Sì, questo decreto secondo me doveva essere meditato con più attenzione. Meno male che sono tornati indietro sulle multe. Le multe mi sembra di capire che si pagano. Quelle fatte si pagano e non avranno sanatoria. Dico bene, Salma? Sì, sì. Si sarebbero comunque sempre pagate. Se parlavate di un rinvio, questo non è che c'è stata mai una sanatoria. Qualcuno, vedi Salvini, ha anche detto si possono non pagare, perché sono state multe in giusto. Lo sentite dire tante cose, ma comunque non si è mai pensato di togliere le multe. Si è sempre pensata di un rinvio. Salta, faccio una domanda a lei diversa come medico, perché il tempo purtroppo a nostra disposizione si esaurisce. Questo governo, secondo lei, comincerà a rivedere realmente tutta la sanità, perché la sanità italiana soffre, soffre in tutte le regioni. E poi è una sanità ingiusta. In che senso? Siccome la sanità è regionale, in Calabria, per esempio, è una sanità che fa veramente piangere. A Milano è una sanità forse meglio gestita, in Lombardia. Allora, la domanda è, questo governo riguarderà queste situazioni? Cioè, gli italiani, in sintesi, si meritano tutti di essere curati allo stesso modo, oppure no? La domanda potrebbe essere, questo governo toglierà la sanità alle regioni? Eh, quello potrebbe essere un'ipotesi che non è praticabile, perché, però, sicuramente una centralizzazione, un'armonizzazione a livello centrale potrebbe rientrare, diciamo, negli obiettivi di auspicabile, assolutamente sì. E la pandemia l'ha dimostrato. E secondo lei, Manfellotto, secondo lei, invece? Questa volta l'ha detto bene il nome, si sta abituando. Si sta abituando ormai, è visto. Dopo che lei mi ha ricordato l'ancillotto, mio nome mi è andato veloce. Sì, è la chiave di vostro. Guardi, io sono sempre stato, ho sempre detto che io sono un nostalgico del Ministero, si vuole più Ministero e meno Regioni. Questa è una cosa che ho sostenuto in varie sedi, in vari ambienti, ho scritto, ho detto. Adesso sento, però, parlare di federalismo differenziato, mi pare di differenziato sia il termine utilizzato, e forse... Vabbè... Autonomia differenziata. Autonomia differenziata. Io non sono un federalista, quindi non sono manco per l'autonomia differenziata. Io sono per il governo centrale che deve gestire la sanità. Io penso pure che ci voglia molto più Ministero e meno Regioni. Speriamo che all'interno del governo ci sia su questo armonia, perché appunto la Lega punta per l'autonomia, e invece i fratelli d'Italia... No, no, che troppe autonomie, secondo me, vanno proprio riviste. Anche secondo me, anche secondo me. La sanità deve essere una, ci vogliono delle linee di indirizzo coordinate, e le regioni non possono andare a piedi liberi. E poi la sanità, permettetemi di dire, che sia gestita dallo Stato, che sia gestita da privati, deve essere una sanità completa e deve garantire l'ospedalizzazione completa. Cioè anche il privato deve garantire il pronto soccorso, anche il privato deve garantire la sanità di prossimità, perché se no non ci siamo capiti. Non è che io sono privato, mi metto a fare solo le unghie, e gli altri fanno invece tumori, infarti e altre storie. Chi vuole occuparsi di sanità, come quando ci si occupa di università, fa tutto, lo fa bene, nel rispetto della legge e delle regole. E i medici sono centralizzati nello Stato, con un contratto statale, non con una differenzazione, chi lavora per la regione in un modo, chi lavora per il privato in un altro. Insomma, c'è molte cose da rivedere, secondo me. Va bene, anche perché poi si finisce alle cooperative, non vi voglio coinvolgere adesso perché è finito il tempo, ma come vi sembra l'idea che ci mancano i medici? Poi abbiamo le cooperative che ci mandano i medici. La follia. La follia. Non ci sono neanche stati dei controlli, io so da alcune parti che sono scoperti i medici che erano stati sospesi. Ma poi il medico che arriva al pronto soccorso per una notte, ma mica fa il benzinaio che mette la benzina? Non conosce l'organizzazione, non conosce la struttura, non conosce quell'ospedale. Cioè è uno che è messo fuori posto, insomma. Una cosa è vedere se uno ha un mar di denti, ma se ti arriva uno con un infarto devi sapere... dove sono le attrezzature che devi usare. Io credo che siano delle situazioni, per me, mostruose. Poi... La ragione, lei è meno motivato nei confronti dell'istituzione e dell'organizzazione. Certo. Stiamo discutendo il medico e la sua professionalità, stiamo discutendo la logistica che è intorno. Esattamente. A lui sconosciuta. Va bene. Satta, io la saluto. Le devo dire una cosa, posso farle una battuta, Satta? Prego. Ti attento, perché se lei continua a pensare in questo modo così liberale, non so, forse deve cambiare partita. Comunque va bene, glielo voglio dire la battuta di Satta. Non si preoccupa. Non si preoccupa. Grazie. Saluto anche Manfellotto a tutti e due. Buonanotte, grazie per la vostra chiarità. Buonanotte, il magnifico rettore, il direttore e lei, il senatore. Grazie, grazie. Buona serata. Buona serata a tutti. Bene. Siamo arrivati, signori, a fine serata. Siamo arrivati alle 23.07, se non sbaglio, ai 17 minuti. Nonostante sia registrata questa trasmissione, guarda come ci siamo organizzati. No, sto scherzando. Purtroppo facciamo notte, tutti i numeri non si mangiano, si vede che io mi sono un po' deperito, non mi faccio la barba. Allora, signori, trasmissione così. Per me è volata via molto veloce, perché faccio un lavoro. Ho visto tutti gli argomenti molto interessanti e a me sono piaciuti. L'aggettivo probabilmente è interessante. Noi siamo il vero servizio pubblico ormai, almeno in questa trasmissione. Detto questo, parola chiave per la serata, come la vogliamo riassumere la serata? A me sembra la parola protagonista sia Stato, lo Stato, nel senso lo Stato italiano in questo caso, l'abbiamo trovato qui nella questione della sanità, l'abbiamo trovato nell'economia con gli interventi che deve fare, con il debito, eccetera, eccetera. Lo Stato è presente anche nella gestione dei migranti, della legalità, ovviamente poi ognuno si fa un'opinione su come deve agire lo Stato. Però ci abbiamo avuto anche lì sui migranti una chiarezza, voglio dire, quello si mette seduto sul nostro molo e tu non ha fatto nessun reato, giustamente, e tu non lo puoi toccare. L'altro, giustamente, è stato detto però, la nave batteva bandiera X e quindi tu sei andato su quello Stato, dovresti tornare a casa con quello Stato. È un bel inghippo, eh? Eh sì, certo. Che ne dite, secondo voi, se invece… no, niente. Che cosa? No, no, volevo dire una cosa. No, 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 volevo dire una cosa, ma non la dico. Vabbè. Io preparo il cartello. Sul pensiero mi distorsi. Lettore, la sua parola, la sua parola chiara. Lascio a lei la chiusura. No, lasciamela la chiusura, schiudo sempre io. Stiamo chiedendo la sua parola di chiusura. Ma è interessante, è molto interessante. Non che le altre non lo siano state, però stasera è passato più velocemente a te. È come quando si dice a una donna, come stai bene oggi? È rischioso, no? Scusi, lei ha detto… mi dà il cartello, mi dissocio. Come quando si dice a una donna. Lei oggi ha un piotto fisso. Comunque, no, perché è dal lì della trasmissione che ci sta parlando sempre della stessa cosa. Mi danno ragione anche i giorni che sono dietro. E allora, signori, che vi devo dire? Vi lascerò stasera con un quesito. Lo Stato sì, lo Stato no, lo Stato stasera. Salve. 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 Salve.